tifoso viola un saluto da leonardo andreini allora video sul calciomercato della fiorentina ma prima di iniziare a parlare del video e soprattutto del calciomercato della fiorentina iscrivetevi al canale lasciate un like condividete e commentate soprattutto qua sotto per sapere quello che pensate almeno lo leggiamo lo leggo e lo commentiamo insieme allora io prima di parlare di farvi la lista dei nomi che la fiorentina a questo momento magari sta trattando io voglio fare un discorso diciamo voglio portare alla vostra conoscenza il fatto che oggi è il 14 di gennaio 2020 quella ci si deve abituare con questo 2020 e mi aspettavo da parte della fiorentina almeno un paio di acquisti e allora uno è arrivato cutrone l'ho ampiamente analizzato all'interno di questo canale l'ho ampiamente diciamo spiegato credo nella nella maniera più chiara possibile con una formula molto contorta ma alla fine cutrone sarà comunque della fiorentina a prescindere ho già detto quello che penso quindi non mi starò a ripetere credo che la fiorentina sia in grande ritardo perché io non mi scordo le parole dette la pradè al termine del calciomercato estivo il direttore della fiorentina disse che aveva ancora un grusoletto di soldi da poter spendere ma che non li ha spesi perché se devo spendere tanto per spendere preferisco tenermeli in tasca questo era fa conto il 31 di agosto insomma il primo di settembre quando finisce il calciomercato oggi come vi ho detto prima siamo a metà di gennaio soprattutto è una settimana abbondante il calciomercato è iniziato da l'inizio del calciomercato come ho detto è arrivato soltanto patrick e cutrone ma si fanno dei nomi in descrizioni di vari siti internet e duncan sembra vicino e cumbulla sembra vicino e poi c'è quello e poi c'è quell'altro insomma qui il discorso è che attualmente la fiorentina dopo una settimana di calciomercato nonostante abbia avuto quattro mesi di tempo per poter preparare le trattative non ha comprato nessuno perché non mi si venga a dire che durante il periodo di calciomercato durante il periodo scusate dove il calciomercato non c'è quindi settembre ottobre novembre dicembre non mi venite a dire che i direttori sportivi di tutte le squadre non si incontrano non si parlano non si fanno niente bene perché legalmente non si può incontrare un giocatore tesserato un'altra squadra legalmente ma se io prendo e in civa un monte mi incontro con tonali durante il campionato mentre il calciomercato è chiuso a me chi mi rompe le scatole nessuno il fatto è la fiorentina non abbia ancora ufficializzato nessun altro acquisto oltre quello di cutrone che sono me è un acquisto che può lasciare dei grossi dubbi perché è un'ennesima scommessa i nomi che si fanno sono questi qui i nomi che si fanno sono da squadra di medio bassa classifica non per nulla vai a prendere d'uncan dal sassuolo che è sempre a metà classifica e vai magari a prendere con bulla dall'ellas verona che anche questa è una squadra che al di là dell'esploat che ha fatto e che farà è comunque una squadra di metà classifica quindi te sei ormai destinato a fare un campionato che non può superare che non supererà ovviamente la metà classifica ok hai degli infortuni da monitorare come quello di liberi che dovrebbe rientrare a marzo ma il condizionale è d'obbligo ai chiesa che gioca così così e soprattutto hai un allenatore che allo stato attuale ha ripreso pari pari quello che aveva lasciato montella e qui mi domando ma se montella è stato esonerato perché non faceva risultati Iachini riprende lo stesso identico modulo e mette per i primi 45 46 minuti di Fiorentina a spalle due attaccanti che non sono attaccanti di due giocatori che non sono attaccanti in attacco riprendi quindi a fare gli errori di montella se no me non hai ben capito ma comunque io voglio avere massima fiducia domani c'è una partita molto difficile e quindi non voglio ora sparare sulla croce russa va bene che se mi metta a analizzare i singoli nostri o i singoli dell'Atalanta anche se non si va in campo domani ed è uguale ma attenzione perché domani secondo me c'è una sorpresa e se avrò modo e soprattutto tempo ovviamente vorrei fare un video dove parlo di Fiorentina-Atalanta di domani tornando al calciomercato la Fiorentina si sta facendo trovare impreparata io mi aspettavo che non ti dico i 7 ma l'8 e il 9 gli acquisti che la Fiorentina voleva fare li avrebbe già ufficializzati perché hai l'incontro con la SPAL perché hai l'incontro di Coppa con l'Atalanta che secondo me è l'unica porta che ti potrebbe portare scusate i giovi parole in Europa hai il Napoli sabato sera partita difficilissima insomma hai un calendario hai un campionato a portare avanti e da cercare di riscattare una quattordicesima posizione triste quanto una novella di buono di non so i che bene quindi c'era bisogno e c'è bisogno secondo me di molta più velocità e questo immobilismo della Fiorentina mi fa preoccupare perché io ripeto mi aspettavo di vedere qualche cosa di più visto che te comunque durante il periodo di campionate quindi con il calciomercato fermo però te ha lavorato sicuramente sono convinto perché è pagato per questo è ha lavorato ma non sta portando i frutti perché evidentemente questo è ma non lo dico io lo dicono i fatti io cerco sempre di basarmi sui fatti poi sui nomi usciti da Ancani con Bulla mi sono espresso sono giocatori di media classifica e quindi se si deve fare un campionato di media classifica o non per non retrocedere va benissimo però io sono triste io sono triste posso esserlo sì sì sono triste sono triste perché onestamente mi dispiace tutto qua iscrivetevi al canale lasciate un like condividete commentate campane attive arrivederci e grazie ciao